Potete immaginarvi come si sente uno abbastanza incapace di fare sport come me qui dentro. Già ero nell'ufficio di Giovanni prima e mi sono messo a giocare con tutti i palloni, è l'ufficio più bello, è come per un bambino stare a Disneyland, stare nel cuore dello sport, dei risultati, poi pensare a quello che avete fatto e che state facendo. Con qualcuno di voi ci siamo incontrati in questo primo anno di azione, di attività del governo e le racchette che mi avete regalato, la racchetta che mi avete regalato, ha fatto una finuccia, nel senso che l'incapacità è stata resa evidente e plastica fin dalla posa. Ma insomma per me è un momento di gioia anche personale, ricordare quel 2-0-1, che era un po' come il 19-72 di Mennea per i due record che erano degli anni quando ero piccolino io. Sì, lei dopo però era negli anni 80, stavo per fare la gaffa, però non sono qui né per fare i gaffi che ho già fatto, mi sono avvantaggiato sul programma, né per esprimere la mia soddisfazione personale, perché di questa non interessa a nessuno. Sono qui come Presidente del Consiglio innanzitutto per omaggiare gli atleti e le atlete per quello che hanno fatto a partire da Federica e da Alex che hanno avuto dei risultati straordinari non solo quest'anno ma anche quest'anno. Il triathlon di Alex credo che non l'avrei fatto neanche in motorino io, in motoscafo, visto il tempo che ci ha impiegato, i risultati di Federica come leader della squadra di nuoto, di quello straordinario campionato che ci ha inorgoglito in quest'estate, sono sotto gli occhi di tutti, ma direi davvero di tanti di voi che sono qui. Innanzitutto grazie, grazie per averci creduto, grazie per averci lavorato fino alla fine, grazie per aver dimostrato che con la fatica, il sudore e la determinazione siete in grado di rappresentare un esempio per i più giovani e più in generale anche per quelli meno giovani, per quelli che fanno politica, per quelli che si impegnano, per quelli che ci credono. Siete un modello e quindi innanzitutto la mia gratitudine è agli atleti, ai dirigenti delle società che riescono a rendere possibile questo sogno a partire dal mondo dei dilettanti, a partire dal mondo di chi tutte le domeniche, i sabati, ma direi tutti i giorni, fa fatica e si impegna talvolta in strutture un po' scalcinate, per colpa anche del pubblico, ma comunque con la determinazione e l'energia che vi riconosciamo. Primo tema, quindi grazie. Secondo tema, lo sport è fondamentale per il 2015 in Italia. Non voglio fare annunci roboanti adesso, quello che faccio dopo. Sul 2015 noi abbiamo un expo che vuol dire stile di vita. Giovanni lo sa meglio di tanti altri perché ci ha insistito. Parlare di stile di vita significa ragionare di come interveniamo nelle scuole, di come parliamo nelle nostre periferie, di come interveniamo quotidianamente. Lo sport è uno straordinario strumento per affrontare le più grandi questioni politiche con la P maiuscola. Da come viviamo il rapporto con la sanità, come stiamo dentro le nostre città. Abbiamo quindi bisogno di rendere sempre più forte il legame tra amministrazione pubblica e sport, partendo dalla grande riforma della scuola che io vorrei incentivasse, come è già stato fatto con il protocollo che Giovanni ha firmato con Graziano Di Rio e il ministro Giannini nei mesi di settembre, sempre di più lo sport dentro la scuola. Forse su questo siamo ancora un passo indietro, dobbiamo fare un po' di più, dobbiamo riuscire a rendere lo sport più presente dentro la scuola e credo che ci siano le condizioni per farlo a condizione di metterci in gioco innanzitutto noi. Quindi è un impegno, non è un generico problema, direi che il prossimo anno quando arriviamo alla cerimonia della premiazione di fine 2015 vediamo che passi in avanti abbiamo fatto molto concretamente. Terzo e ultimo punto, prima di salutarvi, c'è però bisogno anche di aiutare lo sport ad aiutare l'Italia. Voi avete vinto medaglie, avete puntato all'oro, qualcuno si è fermato a un passo dalla medaglia, penso alla straordinaria emozione che ha suscitato la nazionale di pallavolo o penso a chi si è fermato a un soffio dal traguardo. Ma avete comunque vinto la medaglia d'oro della determinazione, del coraggio, dell'energia. Avete ottenuto in quest'anno risultati straordinari. Il nostro paese troppo spesso sembra rassegnato, sembra aver ridotto la propria ambizione. Io non dico che non si possa perdere. Vedo i pugili e penso a Leonard Bundu che qualche ora fa si è fermato anche lui a un passo dal trionfo a Las Vegas, credo, o comunque in America. Può succedere di perdere, ma quello che non è accettabile è che non ci si provi. Quello che non è accettabile è che rannicchiati rinunciamo a giocarci la partita. E allora l'Italia è un paese che ha tutte le condizioni per ambire la medaglia d'oro. Ha tutte le condizioni per mettersi in gioco. Non è un fatto politico di un colore o dell'altro. Sono le istituzioni che devono tornare a puntare in alto. E se ci sono i problemi li dobbiamo affrontare e dobbiamo risolverli senza permettere ai problemi di impedirci di sognare, di impedirci di provare. Qualsiasi atleta quando parte sa che non sarà facile. Se dovesse aspettare la facilità per provarci non farebbe l'atleta. Bene, con lo stesso spirito annuncio che assieme al CONI saremo a fianco a fianco perché da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai giochi olimpici del 2024. Una candidatura che ci riempie il cuore di emozione, ci riempie il cuore di orgoglio, ci riempie il cuore di difficoltà. Avremo la struttura più all'avanguardia del mondo perché il Made in Italy è anche questo. Saremo all'avanguardia su tutte le strutture tecniche dal punto di vista del controllo della spesa. Saremo all'avanguardia nel progetto che ovviamente sarà incentrato sul Roma, sul Roma capitale, come ovvio che sia. Poi toccherà al CONI e alla squadra tecnica che Giovanni con la sua qualità sicuramente metterà in piedi per riuscire anche ad allargare rispetto alla proposta che è uscita dall'ultimo comitato del CIO della settimana scorsa. Noi immaginiamo di poter avere un raggio d'azione che consenta alla candidatura di essere credibile e di vincere perché con tutto il rispetto per De Coubertin non facciamo questa candidatura per partecipare. Questa candidatura la facciamo per vincere e ci metteremo insieme sicuramente le città che più possono aiutare in questo progetto a partire dal cerchio vicino a Roma, quindi Firenze, Napoli e la Sardegna. Le modalità con cui tecnicamente questo avverrà saranno ovviamente nelle disponibilità del comitato promotore che partirà da gennaio sotto la guida di Giovanni Malagoi, sotto l'impulso di Giovanni Malagoi del CONI. Noi faremo di tutto perché questo progetto che andrà a giudizio nel settembre del 2017 possa essere un progetto di cui andare fieri e allora finisco. Può succedere di non vincere, può succedere di non farcela, può succedere di mollare, ma quel momento, quel momento in cui non ci si va deve essere un momento che ci scopre vivi, che ci vede in forma, che ci vede con determinazione, che ci vede pronti. Da questo punto di vista l'esempio di Alex è probabilmente l'esempio più straordinario e più forte che noi abbiamo, ma tutti voi sapete perfettamente che l'impegno, l'impegno su ogni singolo punto, l'impegno su ogni singolo centimetro, su ogni singolo tiro, su ogni singolo colpo, è l'impegno che rende ciascuno di noi persone e non semplicemente dei numerini, dei codici fiscali, delle donne e degli uomini. Allora il governo italiano è pronto, assieme al CONI, a fare la propria parte. Noi non pensiamo che questo progetto possa essere un progetto campato in aria, fatto di grandi infrastrutture, di grandi sogni. Pensiamo che sia un progetto fatto di grandi persone. Le grandi persone sono gli atleti, voi che siete arrivati a medaglia, i tanti atleti che nelle palestre scalcinate delle nostre periferie non ce la fanno, ma che comunque con l'uomo impegno dimostrano che lo sport in Italia è qualcosa di più, di un'attività, è un modo di vivere, è un modo di essere, è un modo di guardare al futuro, fatto di coraggio, determinazione e di impegno. Per tutti questi motivi, grazie, noi ci siamo. Non so se ce la faremo, penso di sì, ne sono molto convinto, ma so che sarà una delle cose più belle da fare perché è una cosa che facciamo per noi, per i nostri figli, per l'Italia. Presidente, un attimo di pazienza. Lo scorso anno, in questa stessa sala, lo scorso anno, in questa stessa sala, il ministro del Rio, dovendosi paragonare o prendendo come modello uno sportivo, disse Gaetano Scirea, lei come sportivo che esempio ha, che modello ha, o quantomeno chi avrebbe voluto essere? Non mi dica Bebe Bichila, comunque. Beh, se devo dirla anche soltanto per recuperare la gaff di prima con Sara Simone, beh, ricorderei, visto che pensiamo a chi non è più con noi, mi piacerebbe ricordare Pietro Mennea, nel senso che le Olimpiadi sono Olimpiadi fatte anche da persone che hanno vinto la medaglia d'oro, però, ecco, io i 19,72 credo di fare i 100 metri, ma non ne sono, no, insomma, 19,62, 100 metri li faccio. Lui faceva i 200, non fare quella faccia, perché non è che siccome sei magro adesso puoi fare lo spread. Lui ha detto Scirea, ma a calcio, lo posso dire, è un'assoluta schiappa, una chiavica totale, quindi lo possiamo dire... Bene, grazie. Grazie, Presidente. Grazie. Grazie.